Cilento, Salerno. Con l'arrivo dell'estate e l'incremento del traffico, e dei flussi turistici lungo le coste cilentane e amalfitane, la Direzione Generale dell'ASL Salerno ha annunciato un significativo potenziamento dei servizi di emergenza territoriale. L'obiettivo primario è garantire un servizio di emergenza più efficiente e capillare durante i mesi estivi. La recente delibera dell'ASL prevede l'assegnazione di nuove postazioni di emergenza strategicamente distribuite sul territorio, che includono anche l'introduzione di una moto medica e due idroambulanze. Questi mezzi di soccorso avanzati saranno essenziali per fornire trasporti assistiti con personale altamente qualificato, riducendo i tempi di intervento nelle zone ad alta densità turistica. Le nuove dotazioni verranno allocate come segue. Una moto medica e un'idroambulanza saranno assegnate alla postazione di Acciaroli. La seconda idroambulanza sarà posizionata a Cetara, per coprire efficacemente un'ulteriore area critica della costa.